Questo rivestimento in pietra di granito sviluppato in Svizzera vi offre molti vantaggi. Il più importante è che vi permette di cucinare senza grassi. Questo vi permette di cucinare sano e di lasciare i sapori intanto. Questo rivestimento antiaderente è altamente resistente e molto duraturo. Un'altra caratteristica molto importante è la trasmissione del calore in maniera uniforme che permette una cottura perfetta e veloce. Facilissima da vedere. Fai uscire lo cerchente.